Evoluzione in rosa per l'arma dei carabinieri anche in provincia di Salerno, in particolare nella parte sud, al vertice di due compagnie, tra l'altro confinanti, due comandanti donne. Da poco il capitano Annarita D'Ambrosio ha preso il posto di Menato Malgeri alla compagnia di Vallo della Lucania, mentre alla compagnia di Agropoli arriverà a settembre il tenente Fabio Lagarello per sostituire il capitano Francesco Manna. Una novità assoluta da queste parti saranno le prime due donne a guidare compagnie dell'arma nel Cilento. Il neocomandante di Vallo della Lucania D'Ambrosio proviene dalla scuola allievi di Campobasso, mentre il prossimo comandante di Agropoli, Garello, è alla guida del secondo squadrone del quarto reggimento dei carabinieri a cavallo di Roma. Gli effetti della nuova epoca delle forze armate, iniziata nel 2000 con l'apertura della carriera militare al personale femminile, arrivano anche da queste parti. Il ruolo delle donne è ormai determinante, con incarichi sempre più prestigiosi. A commentare la svolta al femminile ai vertici dell'arma cilentana, il generale Maurizio Stefanizia, capo della Legione Campania. Sono delle professioniste grandissime, una è già arrivata, il capitano D'Ambrosio, a comandare la compagnia di Vallo della Lucania, un'altra arriverà a settembre e comanderà la compagnia di Agropoli, ma noi abbiamo già un comandante di compagnia a Piedimonte Matese, in provincia di Caserta, un comandante di compagnia ad Aversa, che è donna, quindi ne arriverà ancora un'altra a comandare un'altra compagnia nell'ambito della campagna, quindi avrò cinque comandanti di compagnia, tutte donne, brave, bravissime, perché poi le donne, facendo un servizio un po' particolare, dobbiamo dire, normalmente devoluto a uomini con grandi difficoltà, quando ci sono, sono fortemente motivate, questa motivazione si unisce anche alla sensibilità, alla capacità organizzativa delle donne che è straordinaria.